Non so se mi ho dato quanto scodavo in riuscita di curva e mi dico che ok era un motorsport di vera, so vetture di vera, so cosa. Dopo tutta la fatica che abbiamo fatto, io sento, sì ci sediamo, meglio vederci, così chiacchieriamo un po' di motorsport. Di motorsport in questo posto speciale dove si fa la storia della Formula 1, hai la sensazione che siamo anche noi all'interno della storia della Formula 1 perché tra tanti anni ve l'ha ricordato questo come il primo Gran Premio? Sì, ho la sensazione che siamo in un posto bellissimo ma dal punto di vista dei piloti che mi immergo sempre nella testa dei piloti siamo davanti anche a una sfida complicatissima perché per creare questo show fenomenale hanno dovuto creare un...